Tra una grigliata ed una escursione, tra un tiro al pallone ed una passeggiata sul pianoro, chi ha scelto di trascorrere giorni a cavallo di Ferragosto a Prato di Campoli ha potuto anche vaccinarsi. Il camper dell'Asda di Frosinone ha fatto tappa a Veroli proprio lungo le distese dell'altopiano, in un open day di prossimità. Tanti abbiamo visto questa mattina presenti per farsi vaccinare. È il secondo appuntamento che ha interessato la città di Veroli. Questa squadra meravigliosa di medici e di infermieri che si stanno praticando per sensibilizzare la popolazione sulla importanza della vaccinazione. Abbiamo ravvisato la necessità di raggiungere Veroli due volte in due siti molto diversi, di cui uno diciamo di villeggiatura, per cercare di raggiungere le persone un po' più restie alla vaccinazione, ma soprattutto che avevano difficoltà a raggiungere i siti vaccinali, perché qui abbiamo trovato persone che stagionalmente vivono qui o lavorano qui, anche pastori, persone che magari per necessità passano la giornata in questi luoghi. Com'è andata? Com'è stata la giornata? Sì, sì, molto positiva. Molte persone sono arrivate sconvinte di fare il vaccino e noi li abbiamo accolti a braccia aperte perché giustamente è una cosa che si deve fare. Veroli con l'80% circa di vaccinate con la prima dose ed il 60% circa di persone che ha completato il ciclo di vaccinazione è tra i centri più virtuosi della provincia di Frosinone. L'obiettivo però della tappa a Prato di Campoli è coinvolgere nella campagna vaccinale non solo i residenti, ma anche i tanti turisti che hanno deciso di trascorrere qualche giorno al fresco dell'altopiano. Ho fatto il vaccino, vado sopra a Pizzoteta per farlo smaltire nel mio corpo. Da Castellini a Prato di Campoli, com'è stato il vaccino oggi? Il vaccino è stato una cosa molto semplice, già educata. Mi sembrava anche una bella giornata qui al Prato e quindi ho approfittato di questa occasione. È più comodo qua venire, è più fresco pure. Non devo fare la fila, né prenotare, né niente, se fa subito è facile. Come si sente dopo il vaccino? Bene, dobbiamo vaccinarsi, è un dovere vaccinarsi.